Buongiorno! Capiterà anche a voi e se vi capita commentate con le emoji che vedete qui di spegnere la sveglia più e più volte pensando ancora 5 minuti, ancora 5 minuti e poi di svegliarvi in super mega ritardo. Ecco, oggi vi faccio vedere la mia morning routine per essere pronti in pochissimi minuti per la scuola o il lavoro. Per prima cosa vado in bagno, raccolgo i miei capelli ed entro in doccia. Per lavarmi utilizzo questo bagno schiuma di Omia che trovate in vendita da Ticotà come tutti gli altri prodotti che vi mostro in questo video, che vi linko anche qui sotto nell'info box. Dopodiché lavo il mio viso con il latte detergente sempre di Omia all'olio di Argan e applico una crema sotto il viso. Questo è uno step importantissimo che non salto mai neanche quando sono in super mega ritardo e utilizzo questa di Garnier che è la Skin Active Idratante Giorno. Dopodiché mi vesto e io vi consiglio quando siete di corsa di andare sul sicuro e di indossare dei capi che non richiedono grandi abbinamenti. Io ad esempio indosso un paio di jeans, un maglione e un paio di mocassini. A questo punto controllo l'ora e se ho ancora qualche minuto passo al make-up. Comincio applicando il correttore Accord Parfait di L'Oreal sulle occhiaie e sul mega brufolo che ho sulla guancia. Applico poi la cipra di Deborah Milano su tutto il viso, blush, questo è di Rimmel, sulle labbra applico il Sexy Balm di L'Oreal e infine, tocco finale, mascara che non può assolutamente mancare, oggi utilizzo il Vamp di Pupa. Come vedete utilizzo pochi prodotti ma con i quali riesco comunque a creare un make-up abbastanza completo. A questo punto, visto che non ho tempo di fare una bella colazione, bevo al volontè e prendo una mela ed esco, oppure magari prendo una brioche al bar o qualcosa lungo la strada. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacio e vi aspetto alla prossima. Ciao! Ciao!